Parolo Precisione nell'angolino Rattoppio della Lazio Un altro errore In ripostazione del Genoa La Lazio unisce Prima Gaissedo Poi il mobile 2-0 alla metà del primo tempo Buono spunto di Meteiros Che calcia Sul fondo Non male però Palla giocata su Marusic Che ha ancora tanta libertà Il cross non è male Parolo Prolunga di testa Dall'altra parte Lulic Nessuno arriva a deviare Il tiro gross violento di Lulic Qui attenzione però Kwame alla sua velocità Wallace fatica a contenerlo Lo spinge verso l'esterno Kwame in area Arriva anche Piontek Lì vicino Brutto passaggio Piontek Vince il ripallo Piontek Non sbaglia Ancora segno Piontek 5 gol In 4 partite Lulic Spazio per il cross Lulic Lo prova con il sinistro Piede debole La palla interessante Secondo palo Colpo di testa vincente Di Milinkovic Milinkovic Maruzic Maruzic Caicedo Gran movimento Caicedo Sul fondo Immobile Aspetta la giocata La palla torna Milinkovic Arrivato dalla Spagna Qui la deve azione Di Parolo Che per pochissimo Non trova il secondo Col consecutivo Ottimo passaggio Per Correa In area Correa Posizione definata Rientra sul sinistro La parata Porta vuoto Immobile Coppietta Ciro Immobile Il gol più facile Per chiudere Il discorso 4 a 1 Ciro Immobile Con qualche secondo Di anticipo Il fischio di Abisto Una ottima Ottima Lazio Travolge Il Genoa Finisce 4 a 1 Dobbietta Di Ciro Immobile Gol di Caicedo Milinkovic Per il Genoa Al solito Christoph Piotr